Saper leggere e scrivere è sempre stato per ogni cittadino il portale di ingresso nel mondo della cultura, della socialità matura e della cittadinanza attiva, perché saper leggere e scrivere è la condizione fondamentale per ogni crescita umana, spirituale e sociale. Anche nell'attuale società di internet del computer e del cellulare l'alfabetizzazione informatica è necessaria perché aiuta soprattutto gli anziani a capire nuovi linguaggi tecnologici così che nessuno scivoli nell'analfabetismo tecnologico che marginalizza le persone facendole sentire estrane e passive. L'Università della terza età fagnanese da anni è impegnata a sostenere la formazione permanente degli anziani, per questo non vogliamo trascurare l'alfabetizzazione informatica che fa sentire gli anziani cittadini attivi, consapevoli e corresponsabili. Nella giornata dell'alfabetizzazione, l'8 settembre, confermiamo il nostro impegno ad accompagnare gli anziani a capire i nuovi linguaggi e usare anche le ultime tecnologie. Facciamo luce sulla giornata internazionale dell'alfabetizzazione.